Dalla Natura un nuovo composto messo a punto dalla ricerca e sviluppo Idifarma, azienda catanese specializzata nella ricerca su infertilità, urologia e ginecologia per proteggere la salute maschile e prevenire problemi alla prostata. Dalla Sicilia un'alternativa naturale da integrare con la terapia clinica per contrastare l'ipertrofia prostatica benigna, patologia che ogni anno registra circa 7 milioni di nuove diagnosi. Idifarma, sempre attenta alle esigenze di mercato, grazie al proprio reparto di ricerca e sviluppo ha brevettato e commercializzato un nuovissimo nutraceutico basato su sostanze naturali, Xipag, che promette di essere una validissima alternativa alle attuali terapie che utilizzano gli specialisti urologi. I botanicals con cui è formulato Xipag sono principalmente estratti da piante note per le loro capacità curative. La Yuga Reptans della famiglia delle Laminace, che secondo recenti studi in vitro, inibisce significativamente l'enzima 5AR. E Graminex G96, estratto di polline di fiori di segale contenente bioattivi standardizzati con spiccata attività antinfiammatoria sul distretto prostatico. Xipag è stato appositamente formulato per dare la possibilità alla medicina complementare di cambiare strategia di intervento su questi pazienti. Xipag è un'associazione di teupolioside e Graminex G96. Sono due ingredienti con specifiche caratteristiche farmacodinamiche, in grado di agire in maniera complementare e sinergica, che dà la possibilità di trattare la sintomatologia legata all'ipertrofia prostatica benigna, un cambio di strategia che permette di procrastinare l'utilizzo di farmaci magari sia efficaci ma prepotenti, che possono dare poi degli effetti collaterali poco gestibili. Xipag rappresenta dunque un integratore innovativo e naturale, che si promette di diventare di grande supporto per i percorsi clinici di settore.